Andiamo per il secondo posto, che non sono delle capre, 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 non sono delle capre ma sono i maiali. E dove sono i maiali? Grazie. Le mani in alto. Alex, la tua non è tanto in alto. Alex tornato bianco, bravissimo, complimenti, bravo. Andiamo con il primo posto. La Caffarruta c'è anche qua. Deportivo, la GS. No, la GS. Deportivo, la GS. Andava bene la Gasta. Puoi dire anche la Gasta che sei perdonato. Deportivo, la GS, venga. Voto, foto. Prego, prego. EEEEEEEEJ!!! Paralto, il gruppo! Abugnata!!! Grazie, grazie! Grazie!